Ciao ragazzi, oggi siamo in un nuovo video E oggi, come avete letto dal titolo Siamo in un nuovo video di Fortnite Ma oggi non ci sono solo io Ma c'è anche il grandioso Il mezzo Panitubbo Allora ragazzi, oggi sono ospite qui da Cristian Perché Cristian ha detto che mi devi insegnare a giocare a Fortnite Devo insegnare a tutti Io sono scarso Stai tranquillo Tony che insegno io Ragazzi, io vi ricordo sempre di scaricare OneFootball Primo link in descrizione Mi raccomando, è gratis Tutte le notizie sul mondo del calcio Il calcio a 360 gradi Lo potete trovare nel primo link in descrizione Scaricando gratuitamente OneFootball Allora ragazzi, lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivetevi al canale Direi di rompere dei cinchiacchiere E iniziamo subito Lo conosco, questo è il telecomando Che tu spremi i bottoni E quello accadono le cose nella vita reale Qualcosa ti ricordi? Sì, che tipo, se tu spremi i bottoni Quello alle persone E accadono le cose Bravo Tony! Allora, tu ora mi devi insegnare Scala, muro, tappeto Scala, muro, tappeto E salgo Eh... Devo prendere l'altezza È importante Ok, Tony Perché c'è sto squadra che ha... Come, Tony? Però sento l'audio Non capisco niente Ciao Ciao Allora, dove va a terrore? Secondo te è meglio che zombo Prima o zombo dopo? Io direi di atterrare indanulato Che dici? Va bene No Atterriamo Fosco del fumaiolo No, io sto facendo Vedi, destra e sinistra Perché taglia l'aria E vado più lontano Guarda tu dondola Di... Guarda come ci sta arrivando Però, eh? I segreti fortnite Te li insegno io Non c'è uno, Tony Sì, quello qua C'è chi? No, faccio subito I no scoop No, qua non c'è nessuno Tony, spacca E metti che qualcuno Si fa a pigliare Sta roba qua Orazza, vedi? Si fa a pigli Orazza E io Pam, baby Eh? Intensibilità Oh, un elicottero Oh, un elicottero Tony, c'è gente Due Oh, ecchere Sta gente che sta Stamma a capo di chi Ne stamm Tony Eh? Sta venendo Sta venendo gente Col... Non fa niente Falli bene Falli bene Ti aspetterò Anche se sei l'ultimo scioppone Ma tutti i cecchini Stanno in da sta map Eh sì Ora sta spaccando Vai, Tony Ma... Eh, insomma, Tony Ma io non capisco niente Corri, Tony Come sicuro? Ah, è vero Eh, è così Sinistra Eh, qui, qui, qui Tony 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 E' stato così Un altro, Tony Ho vinto Tony, che è stato altro Ho finito Fortnite Ho finito il gioco Tony, dietro Ah, non so Ecco, lo senti passi Ho finito il gioco Altre due Tony Tony Non ci viste Tony, vai Tony Tony Sono troppo forte Tony Sei forte E non ci sta capendo niente Piense il po' Vedi che tu ti affidi a me Tu non hai finito a pensare a tuo fratello Ti affidi a me Noi tuo fratello Non capisci niente Allora, Tony Questo Ti fa saltare in aria C'è? Muoio? No E tu ti fai saltare in aria Guarda No Hai fatto due kill Ha girato Sto capato Ho dato una testata È un condotto d'aria Tony, guarda Salta solo lui Vai in safe, Tony Oh E chissà Di fin in cielo Arrivano Romare Aspetta C'è un segreto Vai, Tony Guarda Questo non lo dirà nessuno Aggancia la zippoline Sono grande, Tony Non sapevi che ci sapevo Giocare così meglio Ti stai avvicinando in safe No, Tony Ma Tony Ma è l'ufa Che è sta cosa? Ma tu lo sai che questa stagione Non l'ho giocata proprio Di fortino Bene Si è messo bene Ho giocato 22 anni fa Oh, ma perché Ah, ecco Ora l'ufa Ma questo è qualcosa americano Tipo Vai in dei garage E ti compri i garage E chi gli dice Quando passi in garage Ci faccia un'offerta a piacere E tu tipo Ti fai l'offerta a piacere E chi lo può capire Dice Dice Oh, abbiamo trovato Dentro un dipinto Del valore Di 8 milioni euro Sì Quando ha pagato il garage 35 euro Fa sul cielo 35 euro 8 milioni euro È buono Cioè Se ci rifletti Fa sul cielo Senti un elicottero Eccolo Eccolo Se no prendi 10 euro Vai Tony Eccolo Lì 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 Tony Eccolo Eccolo E' lì Tony costrisci Tony ti pego No 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 Sì Tony Costrisci Pusha Tony E' il nabbo Vai Dai va Ma lo push Ma ci pensi Però così Come si accorre Così Tony 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 Fatti un oscillino Non sto capendo Niente Non sto Fatti un oscillino Ma non si capisce niente Troppo forte La sensibilità Eh lo so E' scuso Ma tutto il materiale C'è frutto il materiale Eccolo Tony Tony Eccolo Che c'è già va Se ci sono i materiali Tony T'ho finito Tony vai Tony 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 Vuoi Tony 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 pusha Pusha E' un second Non pusha Ma perché Perché ho finito i materiali Abasci me la sensibilità Guarda il cielo Ragazzi c'è stato un piccolo problema Di sensibilità Turbo Tony No Abasci me la sensibilità Eh Io mo lancio a bassa Prima partita 3 kill Nigella Frighto Quando vede Sì però tu no Mi devi dare qualche consiglio Qualche cosa C'è qualche trick Qualche segreto Il segreto di questo gioco È che devi correre Perché tu correvi così Tu devi Così No Così Poi devi costruire Ma ho visto che la sensibilità è abbassata Dovevi andare meglio Dovevo scendere A brughiere brumose Perché brumano Va bene Tony Solo non c'è nessuno però Ehi Perché ci stanno asciutti Eh 3 di loro ci dovrebbero andare Non ti preoccupare Li ucciderò io Ok Tony Li farò rimpiangere il giorno in cui Sono venuti a sfidare Tony Tubbo Ah Sei un grande Tony Ti ho stimato Tony sta un botto di gente Vedi sto bomba Eccolo 32 Spara Eccolo Andiamo avanti Venita fuora Un luogo No 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 Sani passa Aspetta Aspetta Sta qua su Sta qua giù Sta qua giù Eccolo Tony 21 Tony Sì 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 Dove hai kill Vai Tony Ma tu sei forte Capistola a mano Tony sta gente dietro Sta gente dietro Sta musica Sono gli scagnozzi Ma dove stanno Non lo so Eccoli Tony non li sparare Ti do un consiglio Sono forti Tony sta gente Lì 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 Tony Sta veramente Eccente lì Spara 30 Calma Tony Non sparare Per la pistola Spara con l'assalto No Tony Questo è forte Oh No Spara Non l'assalto L'assalto E' il bomba Il bomba Tony Tony Pure il luogo Dove hai vita Tony aveva uno di vita Quello Anche io Grande Tony Tony Non li pensare Non li pensare Tony Come ne pensare Ma è una questione Di orgoglie Tony la safe E mo Tony è lotta È lottanissima E mo E mo Sì È morto Gado Aspetta C'è stato l'elicottero Non c'è niente Vai Scappa con l'acqua Vai Ci sarà No No A few moments later Abbo Lasciamo gli cildini Per chi verrà dopo Vai Metti che uno passa E gli lasciamo gli cildini Ragazzi è stato un errore Di 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 Vabbè Però abbiamo capito Allora Vai Sì Allora mo Ascendiamo dalla montagna Non vogliamo andare Dall'autorità All'accensia Delle entrate No Non Troppa sta Ci ritengo Voglio andare Alla La Volare No Troppa sta Voglio andare Allo yacht Ma Oh 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 bravo Amand Ragaz Tony tu Tony c'è gente Tony sali sopra Torri Oh il bianco Tomi tubo Non ci sono altro Tomi tubo Tomi quant'è se è forte Sai non è qualcosa Torri No Hai fatto 2 kill Bravo Tomi La gente mi sta stimando Lo sento Vabbè ragazzi il video può finire qua Purtroppo sono boomer ragazzi Non riesco ad essere molto bravo Come il fratello di Vincenzo Massimino E' bravissimo Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Noi ci ribetchiamo di un prossimo video Bella Iscrivetevi pure a TorriTube Non vi trovate Ovviamente